Grande Angelo, buonasera a tutti, sono l'imbecille, tra virgolette, che poi bisogna dire che colpito viene la predica ovviamente, bisogna dire chi parla, se chi parla merita di essere risposta, ma io penso di no, perché gettare fango su di me alla fine vuol dire che sono arrivati proprio alla frutta, perché noi siamo i giovani, siamo quelli mocciosi, 17 mesi fa eravamo i mocciosi e di noi non si parlava proprio, ora se arrivano a parlare pure di noi, allora vuol dire caro sindaco che 17 mesi qualcosa pure noi di buono l'abbiamo fatto, quantomeno ci riconoscono, sanno chi siamo, io come voi sapete mi è stata data la delega alle politiche sociali e alla pubblica istruzione e successivamente anche all'assessorato, questo già vi fa capire la nostra amministrazione com'è, è un'amministrazione, e uso questo aggettivo che il sindaco usa sempre, decentrata, questa è la cosa che io non ci credevo all'inizio, quando siamo arrivati iniziata questa avventura e ci siamo trovati con tutte queste delega e questi compiti da affrontare, io ogni volta andavo dal sindaco a dire Andrea dobbiamo fare questo, ma vai vai, Andrea a me dovrei andare di qua, vai vai tu, scegli tu, fatti vedere tu, parla tu, decidi tu, questo è sempre stato il suggerimento e quello che il sindaco ci faceva fare ad ognuno di noi, quindi alla fine in 17 mesi è come se fossero 17 anni, perché abbiamo fatto cose che sicuramente non avrei mai fatto, abbiamo affrontato sfide, siamo trovati a dover parlare con persone, a fare delle scelte, a confrontarci anche con gli impiegati del comune, non è stata una cosa molto semplice da fare, farci rispettare pur essendo giovani e piccolini, quindi per questo siamo cresciuti tanto e se voi ci avete dato la fiducia 17 mesi fa, non potete non darcela adesso, non potete darvi indietro, anzi dobbiamo aumentare ancora di più, cercare di influenzarvi ancora di più, perché ce lo meritiamo veramente, in questi 17 mesi, 18 mesi, io con la mia delega ho fatto tante cose, perché comunque le politiche sociali abbraccia, io dico che è un settore molto delicato, in cui proprio la politica non si deve fare, perché è un settore che riguarda i bisogni delle persone, quindi i bisogni delle famiglie, degli anziani, dei giovani e quindi in quel momento, nel momento in cui io sto trattando con quelli che sono i bisogni, le necessità delle persone, io la politica non la devo fare, però in realtà dall'altra parte era questo che si faceva, io per questo mi sono scontrata molte volte, bisogna guardare alla necessità della persona e non alla persona chi era, quindi abbiamo fatto tante iniziative, tante cose, guardando collegare le necessità, chi aveva i requisiti, chi aveva bisogno di un aiuto, non guardando chi era il soggetto, come invece si faceva normalmente. Per questo è venuto un po' a riformulare tutto il sistema e quel settore come doveva essere gestito. Sono state tante iniziative che abbiamo fatto, partendo comunque dagli anziani, già qui sedute vedo molti di voi che siamo andati al soggiorno climatico, è un'iniziativa che vorremmo sempre fare, perché è un'iniziativa bella, dove c'è il confronto, anche io mi confronto con voi, imparo tante cose in questi 5 giorni, 6 giorni, quando torno mi sono arricchita comunque di tante esperienze con voi, mangiando insieme, stando insieme, siamo andati in Puglia, quest'anno siamo andati ad Ischia, avevo cercato comunque anche di confrontarci, di stare insieme, di parlare e così via, però oltre a questo, perché prima si faceva solo questo, l'amministrazione primiana, prendeva i soldi, faceva solo giorni climatici, era finita le politiche sociali. Noi abbiamo deciso comunque, guardando anche il momento che stiamo attraversando, di cercare di utilizzare una parte sempre per i nostri anziani, per stare insieme, ma facendo anche altre iniziative, è una delle iniziative a cui io tengo molto, perché è partita proprio dalla nostra amministrazione, che poi non abbiamo avuto però un attimo il tempo di farla concretizzare, è quella che noi chiamiamo LPU, i lavori di pubblico utilità. Stavamo già andando avanti, c'era stato il manifesto, stavamo nella fase proprio di apertura delle domande da parte di una commissione e poi ovviamente i signori di là hanno deciso che devono tentare ancora, ci hanno bloccato di nuovo questa iniziativa e poi non riprenderemo dopo questa campagna elettorale vincendo, questa campagna elettorale e quindi farà un bellissimo progetto che cercherà di dare una mano a tutte le persone che sono in condizioni disagiate, dando un contributo che non deve essere perché va bene, non tiene soldi o contributo, no, deve essere perché tu ti impegni nella società, fai un lavoro di pubblico utilità nel tuo paese, quindi da tutto riconosciuto, da tutti visto e per questo vieni apprezzato e vieni ricompensato e questa è la finalità di questo servizio che porteremo avanti poi successivamente. Poi ovviamente sono state tutte le altre iniziative che noi abbiamo fatto sempre per le famiglie, come diciamo i ticket, sono tutte le cose che noi possiamo dare, i contributi che il comune può dare e che cerchiamo di erogare a favore di tutti i cittadini e di voi tutti, tutte le persone che hanno determinati requisiti, che hanno bisogno, che hanno bisogno di aiuto. Cos'altro? 17 mesi, volendo poi allacciare ad Angela, non sono state proprio bellissime, ecco perché siamo state sempre un po' ostacolati, noi giovani che dovevamo imparare tante cose, noi giovani che eravamo la prima esperienza, dovevamo imparare dai più grandi, ma non da tutti i più grandi, da alcuni non dovevamo imparare niente, da alcuni abbiamo proprio l'ora che escono in un modo di non fare il contrario, questo ho capito. E gli adulti, non solo per il fatto di essere adulti, sono persone da prendere come esempio, però io una parte dico, da alcuni adulti io imparo delle cose, da altri io li ringrazio perché comunque mi fanno maturare, riescono a farmi diventare più dura, più tenace, che al momento in cui mi confronto con persone dall'altro lato, che posso assicurare, tutto fanno, forché metterci al nostro agio, ma cercano sempre di trovare il punto in cui ci devono colpire, il momento in cui noi sbagliamo, questo loro hanno cercato in 17 mesi di fare, trovare i momenti in cui o io o Angelo o qualcun altro faceva un passo falso, faceva una piccola defiance, stavano sempre pronti lì ad attaccarci, non ci abbiamo dato tante occasioni a dire la verità, perché siamo stati abbastanza forti, quindi questo per farvi capire che abbiamo lavorato in questi 17 mesi, ognuno con la sua delega, ognuno nel suo settore, perché il Sindaco ci ha lasciato liberi di prendere decisioni, sempre per il bene del Paese, ci ha fatto capire proprio che qua significava amministrare, curare il buon andamento di un'attività, di una cosa, questo lo abbiamo fatto, ognuno nel suo settore, però ovviamente poi anche stanno insieme e confrontandoci, però ci ha lasciato liberi e di questo lo ringrazierò sempre, perché comunque ero io che prendevo le decisioni, lui si fidava di me e questo per me è stato molto importante, quindi fidatevi anche voi di noi, sempre, non ci abbandonate, anzi dateci sempre più sostegno, più aiuto, perché credo che in 17 mesi abbiamo fatto capire che non siamo dei mocciosi, non siamo degli stupidi e io non sono proprio tanti imbecille, non fa niente. Grazie.